Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, il mio nome è Luca, oggi un video diverso dal solito, è una testimonianza, sono qua assieme a Riccardo Molaro, mio grande amico da ormai tempo e anche mio cliente, tra l'altro eravamo entrambi co-founder di Freelancers, Riccardo appunto è quello che ha inventato il nome Freelancers, è diciamo il fautore dell'idea, e per chi non lo sapesse Freelancers era un'agenzia a rete di Freelancers in Friuli Venezia Giulia, tra l'altro una delle più grandi, tuttora la più grande che c'è stata. Nel video di oggi voglio parlare della, anzi voglio far parlare Riccardo della sua esperienza con il mio servizio appunto di gestione di campagne pubblicitarie e consulenza riguardante il suo info business, il suo business di consulenza e per partire semplicemente ti chiedo Riccardo di presentarti in modo tale che le persone ti conoscano. Ok, allora io da un po' di tempo, circa tre anni faccio appunto info business, quindi mi occupo di vendita di consulenze barra corsi, ho iniziato ovviamente senza funnel e senza nulla e poi sono andato a strutturare ovviamente quella che è la mia azienda, il mio info business a tutti gli effetti, quindi sono partito da solo con delle consulenze one to one e poi in questo settore della formazione che mi ha sempre appassionato. Lo faccio online in questo momento ma mi piacerebbe un domani addirittura insegnare in presenza insomma magari all'interno di un'università o di un istituto, perché comunque la formazione è una cosa che mi piace molto, ad ogni modo nel tempo sono andato poi a strutturare quella che è l'azienda quindi insomma andando ad acquisire sempre più competenze ho strutturato un vero e proprio team che si compone appunto di una parte pubblicitaria che gestisci tu in questo caso, alcune persone che ovviamente fanno la parte di social media, insomma tutta la comunicazione e io ovviamente sono il frontman nonché formatore dell'accademia. Noi abbiamo un'azienda che si chiama Nomadix, quindi praticamente abbiamo un programma che si chiama Digital Nomad Evolution e al suo interno aiutiamo le persone sostanzialmente a crearsi da zero una professione al 100% da remoto quindi che si sviluppi su delle competenze e andando a individuare poi una nicchia di mercato e andando a trovare delle aziende con cui collaborare. Al fine sempre poi di ovviamente riuscire a lavorare da remoto, lavorare da casa questo è un po' l'obiettivo che abbiamo all'interno di Nomadix. Facciamo tutta la parte di acquisizione clienti solo con un profilo Instagram quindi tutto il traffico che noi portiamo lo portiamo all'interno di un profilo Instagram il funnel che stiamo utilizzando ormai è un funnel che abbiamo in piedi da due anni ed è un funnel un po' particolare come sai bene Luca nel senso che in questa nicchia Info Business ci sono vari metodi per poi fare l'e-generation in particolare io uso un funnel che penso che nel mercato Formazione Italia siano pochissimi che lo utilizzano in questo modo qua quindi io lo chiamo Value Funnel quindi tutto il traffico arriva sempre in DM su Instagram per portare a crescere la pagina e per poter gestire poi diciamo quelli che sono i potenziali clienti, studenti interessati tramite la messaggistica quindi il nostro funnel è un funnel a tre step e funziona in questo modo qua utilizza chiaramente una WSL, un webinar che noi chiamiamo Corso Gratuito che è un corso di 50 minuti che va a educare ovviamente quelli che sono i nostri potenziali poi contatti che vogliono entrare all'interno dell'accademia con te ovviamente siamo un annetto e mezzo ormai che lavoriamo su volevo farti appunto questa domanda qua abbiamo iniziato a lavorare assieme circa secondo me un anno e mezzo fa su questo progetto qua e sono subentrato da subito nella fase di gestione e inserzioni poi diciamo ti do una mano anche sulla parte strategica generale del team però di base soprattutto la parte di gestione e inserzioni chiaro, io ho un team molto piccolino nel senso che ho un venditore una persona che gestisce appunto le campagne che sei tu una persona che mi aiuta con la messaggistica e un social media manager quindi comunque facciamo dei bei numeretti con un team molto piccolino alla fine sì esatto e volevo chiederti com'era la situazione prima che subentrassi io a lavorare in azienda a te e com'è la situazione adesso un anno e mezzo dopo che abbiamo iniziato a lavorare assieme? allora semplicemente il fatto che appunto come dicevo prima la mia azienda fino a che non iniziassi a livello di advertising quindi a livello di creatività si basava principalmente su contenuti organici insomma facevamo lead generation però ovviamente in una mole molto piccola rispetto alla mole che abbiamo in questo momento e poi ovviamente per andare in una fase di scaling quindi per andare effettivamente a tenere in piedi un team e poter scalare quella che è l'attività ovviamente abbiamo dovuto integrare l'advertising tramite meta quindi noi facciamo facebook e instagram e non ci occupiamo di altro advertising probabilmente proveremo tiktok più avanti però in questo momento insomma è più che sufficiente il traffico che stiamo generando da meta sì si parla tanto dei costi di acquisizione nella nicchia formazione che sono molto competitivi io in realtà penso che questo dipenda perché noi abbiamo dei costi di acquisizione molto bassi e dipende molto dalla comunicazione la creative la parte diciamo l'angolo di comunicazione che uno utilizza perché nella nicchia formazione formazione io vedo tantissimi guru che usano ovviamente creative che hanno anche forse stancato e che ti danno poca fiducia e poi noi con delle creative semplicissime molto trasparenti molto dirette riusciamo comunque a generare un quantitativo di lead nel funnel sì la cosa appunto di cui volevo parlare era la strategia che sta performando benissimo negli ultimi mesi che è quella appunto del funnel che abbiamo implementato la cosa interessante magari poi metterò degli screenshot qui sul video ovviamente blurrando le creatività quello che andiamo a fare la cosa figa è appunto il costo per lead perché in Italia io lavorando con diverse info business vedo che comunque il costo per lead può variare ma difficilmente scende sotto i 2-3 euro già quando siamo attorno ai 2-3 euro è un ottimo costo per lead poi chiaramente dipende dalla tipologia di offerta che si ha e dal commercial rate ovviamente ci sono tutte le varie fasi da analizzare però in fase appunto di advertising che è quello di cui volevo parlare in questa call qui che è quello di cui mi occupo per la tua azienda in questo momento abbiamo dei costi per lead super interessanti inferiori ai 90 centesimi quindi per delle campagne ce le abbiamo attorno ai 50 centesimi per altre campagne ce le abbiamo attorno ai 90 centesimi e poi facciamo tante ads su Instagram e con quelle ads raggiungiamo veramente migliaia e migliaia di persone al mese spendendo relativamente poco considerando se dobbiamo fare una considerazione appunto su i competitor della tua nicchia e il loro ad spend noi siamo veramente a un decimo un cinquantesimo anche in alcuni casi però abbiamo a livello di lead numeri simili adesso non mi ricordo esattamente ci sono oscillazioni non saprei dire magari poi vai a vedere tu i dati effettivamente di lead opt-in page perché poi secondo quello che è il nostro funnel che non vorrei spoilerare ovviamente come funziona nel particolare però noi abbiamo appunto questa opt-in page e poi le persone arrivano su Instagram quindi abbiamo questa diciamo conversion rate tra i lead che finiscono nella opt-in page e poi i lead che arrivano effettivamente in DM però comunque abbiamo delle giornate in DM parlo con dei picchi da 30, 40, 50 DM ovviamente nella opt-in page sono molto più alti però insomma funziona molto bene la parte creative abbiamo testato in questi mesi effettivamente è dove si gioca tutto tutto effettivamente perché noi comunque adesso stiamo usando delle creative che vanno a sfruttare quello che è un po' un trend che andava qualche mese fa e possiamo ovviamente testare altri trend per effettivamente testare le creative in questo modo qua in maniera naturale, trasparente rispetto che alla classica creative insomma da guru eccetera vedo che funziona molto bene Sì, l'elemento differenziante è diciamo una cosa che è quasi una sciocchezza però è diventata cioè siamo praticamente delle come si chiama? mucca viola cioè è una cosa totalmente diversa rispetto a quello che si usa adesso è una comunicazione molto più soft molto più stile UGC e sta funzionando veramente molto bene Io personal brand si differenzia tutti i lead che arrivano si differenziano perché tutti dicono che appunto arrivano da me per una comunicazione molto trasparente molto blanda poco aggressiva noi non parliamo mai di soldi di guadagni non parliamo di nulla se non di libertà lavorativa insomma questo tipo di cose quindi sono delle creative paradossalmente che si distinguono da tutti gli altri e siamo sempre all'interno della stessa nicchia perché fondamentalmente comunque poi noi vendiamo corsi e consulenze quindi poi la delivery è sempre la stessa Volevo chiederti che è la domanda che ti ho fatto all'inizio la situazione come è cambiata da quando sono entrato io in azienda e hai visto un miglioramento un peggioramento? Beh sicuramente lato azzi o comunque appunto ho iniziato come avevi visto un po' in autonomia probabilmente per fare tutte le parti test, retargeting lookalike, pubblici e cose del genere chiaramente poi c'è bisogno di avere un'assistenza da quel punto di vista e quindi insomma poi abbiamo letteralmente svoltato l'info business con questa parte pubblicitaria gestita Come ti sei trovato col mio servizio col mio lavoro in generale? Cioè a parte ovviamente la parte tecnica che io vado a svolgere mi sembra sia andata bene oltre a questo che cosa hai visto ad esempio rispetto a un normale media buyer cioè tipo il supporto che diamo in più se insomma hai entrato delle differenze da un collaboratore normale Allora sicuramente la competenza dal punto di vista dell'info business nel senso che tante volte a rinnovano magari i media buyer con cui lavori che non sanno cos'è un info business magari hanno fatto e-commerce magari hanno fatto lead generation per altri diciamo altre nicchie però la nicchia dell'info business va conosciuta da dentro ok? E questo è importante un media buyer che sappia che cos'è un info business come funziona è importante perché ovviamente nella strategia anche di gestione delle ads è importante che un media buyer sappia come funziona un info business qual è la struttura di un info business dati alla mano se posso dirti il tuo servizio è sempre stato impeccabile il consiglio che però ti ho dato tempo fa è la customer service quindi l'integrale in azienda perché sai che io sono esigente da questo punto di vista sulle risposte soprattutto quando magari bisogna fare dei cambi repentini di ads e robe del genere giustamente tu come imprenditore uguale hai le tue routine le tue le tue giornate però secondo me è diciamo una sorta di segretaria valore a customer service per i clienti potrebbe dare quel contributo in più però in generale è tutto vero però dai da quando me l'hai detto è migliorata come cosa vero? questo sì assolutamente ok ottimo miglioriamo sempre beh si impara alla fine da queste cose qua ma è una nota questa che dico semplicemente nella comunicazione che io e te abbiamo ma perché io sono molto esigente da quel punto di vista nel senso che come vedi io posso contattarti alle sette di mattina o alle due di notte come ieri sera esatto esatto se necessario insomma poi a volte diventa anche troppo e lo riconosco però insomma così no ma ci sta alla fine il tuo progetto ti sta a cuore come giusto che sia e comunque sei esigi sei esigente diciamo secondo me è corretto io sarei sono allo stesso modo ok come ultima cosa volevo chiederti se c'è all'ascolto c'è una persona che sta guardando questo video e sta valutando è insicura se lavorare con me o meno che cosa gli diresti? beh sicuramente di farci seguire come dicevo prima da te non do media buyer qualunque perché come dicevo è importante avere una persona schillata sull'info business quindi persona che comunque sappia come funzionano le logiche dell'info business e quindi la parte pubblicitaria dietro non affidarsi diciamo a una persona che gestisce le ads qualunque che magari non ha esperienza in questo caso esperienza ovviamente con il mio info business in questo caso ma anche in generale nella nicchia formazione quindi sicuramente farci seguire perché insomma sei anche competente per quanto riguarda tutta la parte funnel diciamo vendita gestione del team setter venditori per chi magari si sta avviando in questo settore sicuramente sa che cosa è un chatter un setter che cosa è un venditore e qual è diciamo un flusso di vendita o eventualmente se non lo sa può richiederti informazioni perché comunque tu sei insomma verticale anche su queste cose qua non è solo la gestione ads fino a se stessa sì esatto nel tuo caso quello che faccio è principalmente la gestione campagne pubblicitarie però sì il servizio che andiamo a fare come per la per la mia agenzia è a 360 gradi quindi se lavoriamo con un cliente non è che semplicemente gli andiamo a gestire le campagne ma lo aiutiamo in tutta la parte anche di offerta della parte di ottimizzazione del funnel perché mi sta a cuore che una persona ottenga risultati e per ottenere risultati c'è bisogno che ogni ingranaggio del macchinario sia ben oliato e funzioni bene chiaro è giusto dire che tu sei entrato diciamo nella mia azienda dove ovviamente c'era già un sistema installato però abbiamo fatto delle migliorie delle ottimizzazioni dei test che sono stati sicuramente utili ed era diciamo era fattibile farli sapendo che comunque tu conosci quelle che sono le strategie i sistemi le sequenze insomma di come funziona effettivamente un funnel per la Nikkei Info Business sì una cosa che abbiamo utilizzato sono anche tutti i dati accumulati dai clienti dai altri miei clienti perché i business manager gli ad account che utilizziamo sono sono farmati e quindi abbiamo parecchi dati quello velocizza questo effettivamente è vero questo effettivamente è vero avere magari già dei dati in questa nicchia aiuta sicuramente a fare dei test tra virgolette ottenendo risultati velocizza velocizza un botto il feedback ed è molto facciamo delle campagne che sono molto più precise rispetto a uno che le fa semplicemente broad così il target che arriva è di norma più qualificato chiaro chiaro questo sì effettivamente è vero abbiamo fatto diversi test che magari un'altra persona che non ha questi dati nella Nikkei Info Business non può letteralmente fare va bene io penso di averti risposto a grandi a tutto sì sì ottimo ti ringrazio Riccardo ragazzi grazie per aver visto questo video se volete informazioni su come potrei esservi d'aiuto trovate qui sotto il link al mio sito web lucaromanutti.com se avete domande cose specifiche scrivetemi pure su Instagram vi rispondo subito direi che basta noi ci vediamo al prossimo video se vi è piaciuto ovviamente mettete like lasciate un commento e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto grazie per aver guardato